Sta accadendo che quelli che sono stati chiamati fino ad ieri, gli angeli, cioè coloro i quali ci hanno aiutato durante il periodo Covid e hanno rischiato la propria vita anche di ammalarsi, anche quella dei propri caridi, e quindi si sono prodigati per noi, alcuni di loro sono stati dimenticati dalla premialità Covid, ovvero sia parliamo di 120 lavoratori che non riceveranno tale premialità. Com'è giusto che i lavoratori che ho chiamato di serie A abbiano ricevuto tali erogazioni, è giusto anche che questi lavoratori che non sono assolutamente di serie B possano e devono necessariamente essere paragonati agli altri lavoratori, quindi ricevere detto emolumento. Non esistono lavoratori di serie B, la Regione Puglia provvede urgentemente ad onorare il lavoro dei dipendenti delle associazioni di volontariato che in piena pandemia al pari dei loro colleghi hanno provveduto a mettere il proprio lavoro ed anche la propria salute al servizio della comunità e del prossimo e la richiesta del consigliere regionale della Lega, Giuseppe Splendido, a sostegno della denuncia della UGL di Foggia. Mi batterò per questo, ho già presentato l'interrogazione all'assessore Palese perché di solito, anzi quasi sempre, quando lancio un comunicato a Stamo c'è sempre una mia attività ovviamente propedeutica, quindi è già stato fatto il mio lavoro, attenzionerò questa situazione, è un grido di allarme che ha lanciato il sindacato UGL che ho pensato immediatamente di raccogliere. Di che lavoratori stiamo parlando? Di volontari nello specifico? Sì, sono volontari che hanno appunto svolto questo gravoso impegno in tempo di Covid e devono essere appunto trattati al pari degli altri perché hanno pari dignità e hanno rischiato come e più degli altri.